Ripartiamo insieme, si chiama così il nuovo piano del comune di San Salvo per dare una spinta all'economia locale, tramite quello che potrebbe diventare, a detta del sindaco Tiziana Magnacca, una specie di bonus ripartenza. Ripartire insieme è un pacchetto di misure che l'amministrazione comunale di San Salvo ha inteso collazionare per dare una mano agli operatori che in questi due mesi sono stati chiusi e aiutarli a riaprire, a ricominciare e a tornare a rendere viva, vivace la nostra città. Il piano è volto a sostenere le attività commerciali, tramite la riduzione delle imposte comunali per il periodo di chiusura, la possibilità di rateizzare le tasse e la riduzione dell'imposta comunale sulle pubblicità. Bar, ristoranti, pub e pizzerie inoltre potranno ampliare gratuitamente il Deor, così da garantire il distanziamento sociale senza rinunciare ai coperti. L'amministrazione intende anche aprire un tavolo con i proprietari dei locali, volto a ridurre i canoni di affitto. Saremo in grado di aiutarli a tal punto da essere incisivi, questo evidentemente no, non abbiamo noi stessi le entrate sufficienti, ma il concetto è quello di stare insieme, condividere questo percorso di difficoltà, mettendoci anche noi del nostro, impegnandoci quanto più possibile, intanto per non lasciare solo i nostri operatori e per applicare concretamente quel principio di solidarietà che mai, come in questo momento, è necessario nelle nostre comunità. Il piano prevede anche una riduzione dei parcheggi, così da lasciare più spazio ai pedoni. Non di secondaria importanza il tema della balneazione. Le spiagge libere saranno sorvegliate da una guardia, che potrà sanzionare chi non rispetta le norme anticontagio. Vi è anche la proposta per i balneatori di aumentare in deroga le concessioni, ma per questo occorrerà l'autorizzazione della regione qualente competente.